Oggi ragazzi, video diverso dal solito. Proprio l'altro giorno stavo cercando una Raspberry, una P4 da 4GB per un progetto di domoticizzazione della casa. Per fortuna ne avevo un paio, diciamo, lì inutilizzate, che però in realtà le dovevo utilizzare per comandare le stampanti con Octoprinter, Repetier Server e quant'altro. L'unico problema di tutta questa storia è il costo. Veramente nell'ultimo periodo i prezzi delle Raspberry, tipo le P4, sono aumentati veramente a dismisura. O si trovano poco o letteralmente hanno dei prezzi letteralmente proibitivi. Quindi ho pensato, cosa potrei cercare come alternativa valida rispetto per la punta ad una Raspberry? Anche perché oggi come oggi ci sono veramente un sacco di dispositivi che hanno la potenza e la memoria necessaria per far girare al lato pratico un programma tutto sommato semplice come potrebbe essere un Octoprint. In soccorso arriva Amazon, con un prodotto che qualunque Amazon Nauta credo conosca. Ovvero, anzi, prima di tutto, sigla! Andiamo a fare un unboxing super rapido, in realtà non è che ci sia niente di particolare da vedere. Qui dentro troviamo due oggetti. Il primo è la Amazon Fire Stick TV Lite. Ho scelto la Lite perché in questi giorni sta tipo 22 euro, 23 euro per l'appunto su Amazon. Ed è un dispositivo che letteralmente è super economico, non costa praticamente niente. Però al suo interno ha un sistema operativo Android, quindi ci possiamo lavorare. Un giga di memoria RAM, non è tantissima, però potrebbe essere sufficiente per pilotare una stampante. E un processore quad core di tutto rispetto da, se non sbaglio, 1,7 GHz. Quindi, ok. Oltre a questo, che poi faccio un attimino vedere che cosa c'è dentro, ho comprato anche questo, che non sarebbe altro che, in buona sostanza, un adattatore OTG. Praticamente l'OTG non sarebbe altro che quel sistema per collegare, ad esempio, delle pennette USB alla porta micro USB o tipo C o quant'altro, ad esempio degli smartphone Android. Ecco, essendoci qui dentro letteralmente un Android customizzato da Amazon, penso che ci riesca a girare un applicativo che a sua volta fa girare Octoprint. Ma ovviamente non ha porte USB disponibili, questa... Anzi, ve lo faccio subito vedere che è meglio, più semplice. Perché qui troviamo telecomando, una prolunga HDMI per evitare di farlo stare tutto storto, un cavetto micro USB per l'alimentazione, comunque, della stick. Ovviamente la stick che andremo a vedere più tardi. Ci sono anche delle batterie del telecomando, non me lo ricordavo. Dopodiché l'alimentatore. Come potete vedere, la pennetta Amazon ha un HDMI da questa parte e fondamentalmente ha soltanto poi la micro USB qui per l'alimentazione. Ma in realtà non fa solo da alimentazione, ma anche da entrata OTG. Infatti viene in soccorso questo, che è un hub. Come potete vedere, qui c'ha una micro USB che, per come l'ho pensata io, andrà collegata qui, per l'appunto, alla Fire Stick TV. Anche di dimensioni molto compatte, in realtà. E dopodiché andremo a collegare l'alimentatore micro USB qui dietro, cosicché sarà poi l'hub ad alimentare direttamente la Fire Stick TV, oltre ad avere degli ingressi USB, che quindi potremmo utilizzare per collegarci, ad esempio, una nostra stampante. Quindi ragazzi, io direi, bando alle ciance, andiamo subito a provare se questa cosa funziona. Onestamente, non ne ho idea, non ho trovato guide in materia, quindi sarà una scoperta anche per me. Adesso andremo a collegare la Fire Stick TV ad un monitor qualsiasi, via HDMI. Così possiamo iniziare la configurazione. Adesso colleghiamo la Fire Stick qui, a questa prolunga che è collegata al monitor. Dopodiché colleghiamo l'hub alla Fire Stick, dopodiché questo qui. E vediamo se si accende. Ora prendiamo il telecomando e facciamo la configurazione, cioè la prima configurazione, con questo. Vediamo l'italiano. Non c'è stato bisogno di configurare la rete Wi-Fi, perché fondamentalmente Amazon li programma, non so come, però comunque li programma già, che ti arrivino a casa, che voi li collegate e sono già collegati sia al vostro account di Amazon che alla rete Wi-Fi. Infatti ora si sta aggiornando. Una volta finito il setup, possiamo andare a prendere una tastiera accablata, wireless, un po' come volete e poi proviamo subito a collegarla qui al suo hub, così almeno vediamo subito se viene letta, insomma, se funziona. Quindi ora sì, accediamo. E come potete vedere ci ritroviamo, beh, insomma, è una Fire Stick TV. Insomma, se riesce a gestire dei contenuti comunque di alta qualità, insomma, tutto un sistema smart, aggiornamenti, eccetera, eccetera, io credo che far girare delle stampanti non sia un problema. Vediamo se lo scoglio inizia a diventare il software, però cercheremo di capire. Ma ovviamente prima di installare, prendere e brigare, vediamo se le USB funzionano. Quindi, adesso, vediamo un po' che succede, se lo attacchiamo qui. Ok, la tastiera si è un attimino illuminata, quindi vuol dire che l'alimentazione gli arriva. Qui non è successo niente. Quindi proviamo un attimino a vedere se ci possiamo spostare nel menu. E ci possiamo spostare nel menu. Quindi è già un'ottima cosa. Come primissima cosa, dobbiamo andare ad attivare le funzionalità da sviluppatore. Perché ovviamente bisognerà installare del materiale non presente sul, diciamo, sul Play Store. E tantomeno quello di Amazon. Quindi dovremo andare a fare un po' di procedure. E vediamo un attimino passo passo. Quindi dobbiamo andare su App Store e scaricare Downloader. Comunque si possono usare freccette, tastiera, invio. Molto bene. Quindi noi prendiamo Downloader e poi lo scarichiamo. Adesso apriamo. Consentire a Downloader di accedere al contenuto ovviamente consenti. Adesso facciamo. Ok, possiamo usare anche le freccette per muoverci qui dentro. Non è proprio il massimo, però insomma. Dopodiché dobbiamo andare a cercare le release. Queste, eccolo qua. Questa. Dopodiché troviamo l'ultima versione di Octo4A che sarebbe Octo for Android. Blah blah blah. Versione .apk. Quindi noi dobbiamo scaricare questo. Ok. Adesso andiamo su Impostazioni. Install app sconosciute. Downloader. On. E adesso proviamo a fare Install. Vediamo se va a buon fine. Applicazione installata. Con la barchetta, ovviamente. Quindi proviamo a fare Apri. Ok. Lo senti. Vediamo un po' se funziona. Ora. Azzara. Uè. Accidenti. Fino a 30 minuti. Mi sa che è crashata. Mmm. Brutta storia. Dopo varie prove con la Fire Stick ho deciso di installare OctoPrint anche su uno smartphone Android. La procedura di installazione è praticamente identica alla pennetta di Amazon. L'unica accortezza aggiuntiva è quella di disabilitare la maggior parte delle funzioni di risparmio energetico. Altrimenti in fase di stampa quasi sicuramente vi darà problemi. Anche in questo caso dovremmo prendere un adattatore OTG compatibile per collegare la stampante al cellulare. Il vantaggio di usare OctoPrint sullo smartphone è la possibilità di utilizzare la telecamera, diciamo, integrata, senza collegare dispositivi esterni. Inoltre ha una batteria interna, anche se comunque consiglio un'alimentazione continua. Quindi l'hub cercate di trovarlo passante, quindi che possa ricevere l'alimentazione come quello che ho comprato io. Quindi farvi da hub OTG ma anche come alimentatore. Infine ho notato una migliore compatibilità con l'applicazione, ma di questo ne andremo a riparlare tra un attimino. E questo perché anche sul cellulare mi è crashata in fondo e, diciamo, non è proprio perfetto ed è anche un po' buggata sotto certi aspetti, però comunque si riesce a far funzionare. Trattandosi di una versione prematura, non gli affiderei mai la gestione della mia farm personale, ovviamente allo stato attuale. Però non è affatto male e spero che venga supportato perché l'idea di questa app è veramente molto buona. Dico ciò perché, lo sapete, sono sì contro allo spreco di soldi, ma soprattutto mi scoccia buttare via delle cose solo perché il software ormai è diventato obsoleto. La tecnologia è un bene prezioso e difficilmente smaltibile senza creare impatto ambientale. Quindi se si può riciclare per altri utilizzi, ben venga. Io consiglierei maggiormente lo smartphone per questo progetto perché ho notato che globalmente funziona meglio rispetto alla Fire Stick, ma potremmo non averne uno disponibile. Comprarlo nuovo non avrebbe senso a quel punto seriamente, anzi una Raspberry. Magari guardando sull'usato si riesce comunque a portare a casa qualcosa a buon mercato. Se non avete la possibilità di mettere mano ad un cellulare in più, allora la Fire Stick secondo me potrebbe non essere un'idea così malvagia. Anche perché con una trentina di euro vi portate a casa hub OTG, alimentatore, pennetta, telecomando, insomma quello che c'è all'interno. Che poi un domani potreste tranquillamente riadattare una TV ad una Smart TV con questa Fire Stick, che poi in realtà sarebbe l'uso per cui è stata realmente progettata. Principalmente si porta però due problematiche. Punto primo, funziona anche l'autoavvio all'accensione della Fire Stick, però ogni volta ci richiede le autorizzazioni ad accedere ai dispositivi USB. Probabilmente ciò accade perché non termina correttamente la procedura di installazione. E il sistema operativo probabilmente non riesce a salvarsi, diciamo, l'identificativo dell'applicazione per ricordarsi del tipo Hey, io so che devo fidarmi di quell'applicazione, quindi visto che ci ho cliccato sopra. Insomma, quindi ogni volta dovremo riconfermare manualmente quest'operazione, cosa che può essere scomoda non avendo un display, come potrebbe avere ad esempio lo smartphone. La seconda problematica, un po' meno rilevante, è che non sono riuscito a collegare una webcam, nonostante venga rilevata. Anzi, se si attiva, crasha proprio l'applicazione e si salverà dentro chissà cosa, e anzi dovrete reinstallarla il più delle volte. Io spero vivamente che questa app venga portata avanti perché potrebbe davvero farvi risparmiare un po' di soldi, oltre che, diciamo, riutilizzare hardware che a condizioni normali verrebbe buttato via oppure lasciatoli a prendere polvere. Soprattutto in questo momento storico dove c'è carenza, tra virgolette, di raspberry e comunque cose abbastanza simili, di conseguenza i prezzi si sono addirittura duplicati, quindi onestamente potrebbe valerne la pena fare una prova con queste. Nonostante possa dare dei problemi, la Fire Stick a mio avviso potrebbe rivelarsi un'ottima alternativa sia alle raspberry sia ad uno smartphone, anche perché questi ultimi condividono lo stesso hardware. Se però riusciste a mettere le mani su una raspberry, magari una P0 base, andate anzi su quella. Decisamente più stabile, però se aveste a disposizione l'hardware che vi ho menzionato, un tentativo glielo darei. Il più delle volte è gratis. E niente ragazzi, io spero che questa piccolissima guida, cioè più che guida, volevo farvi conoscere, se non lo sapevate, quest'opzione nel mondo della stampa 3D un po' più smart, tra virgolette. Quindi se aveste qualsiasi domanda, dubbio, considerazione da fare qui sotto nei commenti. E niente ragazzi, il video di oggi finisce qui, spero tanto che vi sia piaciuto, mi raccomando se così fosse, lasciate un grande mi piace, iscrivetevi, commentate, mi fa sempre un sacco piacere e ci rivediamo ad un prossimo video.